Così alto locato, io parlo proprio terra a terra, quello che interessa a me è che mica il Movimento 5 Stelle, il perché è molto semplice, sono tutte persone più che oneste, bravissime, si impegnano in tutto e per tutto e poi un'altra cosa che proprio ce l'ho, voglio parlare di qualcosa che viaggia, il rotondo, cioè la bella rotonda di Mugio. Ora mi chiedo se comunque è 400 e passa milioni di euro, scusate ho dimenticato tre zeri, ma gli zeri contano e non contano, qua contano però, che con tutti questi soldi magari un occhio alle case del comune di Zaccona si poteva anche darlo, anche perché per me quella rotonda è veramente inutile, ma non solo, tantissimi servizi a quelli che sono i cittadini, ma nelle cose di tutti i giorni, se piove le strade sono allagate perché non vengono puliti i tombini, insomma queste cose andrebbero fatte e mi meraviglio che l'amministrazione comunale attuale, sarà già 7, 8, 9, 10, ma anche 15 anni che non ci pensa più, però la rotonda ci ha pensato, scusate ma... Grazie. Grazie. Grazie.